Si parla molto di vaccini, da una parte con figliolo che annuncia il milione di dosi a giugno, di coprifuoco e ovviamente di Gaza. Queste sono le immagini dei bombardamenti israeliani, ci sono almeno 20 vittime solo a Gaza, centinaia i feriti. Così cambierà il coprifuoco, Corriere della Sera, le regioni stoppa la circolazione dalle 23, il governo apre, in settimana arrivano 3 milioni di dosi. Cartabia, i partiti sulla riforma della giustizia, senza riforma della giustizia, rischio il recovery fund, del resto lo si sa, è condizionato il recovery fund. Intervista con la direttrice dell'EMA, tutti i vaccini sono sicuri, serviranno altri richiami. Emmer Cook, direttrice esecutiva di EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, tutti e quattro i vaccini che abbiamo autorizzato sono sicuri e di qualità. AstraZeneca è raccomandato per tutti gli adulti, sono orgogliosa della risposta europea. Dice Emmer Cook, mentre sono in arrivo 70 mila migranti, la morgese chiama l'Europa, ovviamente nella stagione estiva, non nelle prossime ore. La spianata delle moschee, battaglie a Gerusalemme, scontri e razzi, l'attacco da Gaza e la risposta di Israele. 20 morti nella striscia, centinaia i feriti palestinesi a Gerusalemme. Patto PD 5 Stelle in crisi nelle città, ma non a Napoli. Repubblica, migranti, draghi all'Unione Europea. Un patto con la Libia. Il governo chiede aiuti di Bruxelles a Tripoli per fermare le partenze e l'ingerenza di Erdogan, ricollocare i profughi. L'Iteletta Salvini sui soccorsi, la disperazione dei 2 mila sbarcati a Lampedusa e i trafficanti hanno ucciso mia sorella. Il Ministero frena sul coprifuoco per quanto riguarda il virus. La decisione è il 21 maggio, dunque non ci sarà probabilmente un'apertura già dalla prossima settimana. Le proposte sulla giustizia di Cartabia per processi più brevi, quelli che chiede la Unione Europea. E poi scontri e razzi, battaglia a Gerusalemme, centinaia di palestinesi feriti. Escalation di morti tra cui bambini a Gaza. La stampa, figliuolo, svolta a giugno con i vaccini nelle farmacie. Un milione di dosi al giorno grazie anche ai medici di famiglia. Sileri con metà degli italiani immuni, via le mascherine. L'RT non è più fra i criteri per i colori. Raggi che dice ora sarò la candidata di tutti, anche di chi vota PD. Virginia Raggi sindaca uscente. Poi le immagini dei razzi sparati da Israele sulla striscia di Gaza. Israele brucia morti e centinaia di feriti nella battaglia delle case. Perché c'è una questione di residenze. Caos vaccini, cambia il piano. Questo è il messaggero.